cari tarantine cari tarantini e si parla molto di turismo come una delle possibili vie di sviluppo di taranto la città di taranto se ne parla da tantissimo tempo io non credo che possa sostituire in toto il fatturato della monocultura industriale siderurgia che possa sostituire essere sostituito dal turismo in toto però può essere una delle parti la novità però qual è che lo faremo con un modello di business di terzo millennio creeremo l'nft non fungibile token del turismo a taro dei pacchetti turisti a taranto a turistici a taranto come funziona si prende la stanza d'albergo si prende il weekend classico quindi due notti ristorazione per notto lo sito che inizia cioè lì si trasforma in un prodotto digitale in questo modo l'operatore l'albergatore il l'albergatore che ha incluso e integrata anche la ristorazione può incassare da subito la somma da chi viene venduto diciamo con questo prodotto digitale chi compra potrà rivendere volendo anche magari guadagnandoci il consumatore potrebbe addirittura guadagnarci sopra ovviamente si disintermedia gli attuali intermediari con dei vantaggi economici per l'albergatore ma anche a vantaggio del viaggiatore del turista quindi è giusto che venga questo vantaggio economico questa forma di risparmio venga condivisa e poi creeremo la borsa dei pacchetti turistici di taranto quindi ci sarà questo scambio e quindi lo faremo con un modello da terzo millennio crypto blockchain questa tutto questo possibile questo asse infrastrutturale è possibile perché esiste la blockchain questa nuova infrastruttura tecnologica quindi crypto blockchain nft tutto questo mondo tutto per il turismo a taranto del terzo millennio